L'artigianato in Emilia Romagna è una realtà straordinariamente importante, un terzo delle aziende sono aziende artigiane, aziende che hanno saputo fare della tradizione e dell'innovazione la colonna portante della loro attività. Se vogliamo che il nostro paese riparta deve ripartire da qui, dall'Emilia Romagna e dalle sue imprese. Oggi vogliamo ribadire questo, l'artigianato è un settore straordinariamente importante, c'è stato un impegno fortissimo anche in questi anni di crisi, io dico sempre che l'artigianato restituisce dignità non solo alle cose ma alle persone. Nel 2007 eravamo 148.000 aziende artigiane iscritte, oggi siamo poco più di 130.000, quindi è un segno evidente che ci portiamo un po' alle ferite di questo ormai decennio che ha lasciato sul campo molte vittime. Quindi l'auspicio è che oggi in Emilia Romagna, che ha dati economici, quindi indicatori che fanno dire che questa ripresa sta lentamente, faticosamente andando avanti, e in Emilia Romagna con dei segnali positivi più rispetto ad altre regioni, dobbiamo fare in modo di prendere al volo questa opportunità e di cavalcare questa ripresa con tutto l'impegno, la tenacia, la capabilità e la passione che gli artigiani sanno mettere in campo.